ragazzi questa è un'intervista diversa dal solito c'è un quesito che mi sta a cuore e quindi vorrei portarlo alla luce nel ventunesimo secolo con l'avvento la venuta dei social media in noi è nata quell'irrefrenabile volontà voglia di lasciare il segno sul web allora ho messo a confronto due aspiranti youtuber per cercare quelle risposte che tanto cercavo ma prima di partire col video lo chiedo anche a voi perché tutti vogliono diventare youtuber di successo sentiamo nome andrea in arte nmc luca anni 32 16 perché inizia da fare video su youtube po per divertimento che poi è diventata una passione quindi vado avanti perché voglio diventare qualcuno e non mi stava nemmeno a genio l'idea di stare sul divano e fare zappi con il telecomando perché non smetti subito ma neschio l'ho appena detto perché una passione no perché voglio farmi conoscere soprattutto voglio avere più iscritti di piede paio riuscirò ad avere più iscritti di te piede paio 100 milioni riuscirò ad avere quanti iscritti hai 939 940 che oscillano sempre in quella cifra lì non aumentano dove vorrei che arrivassero diciamo quasi 1500 diciamo che siamo con un punto diciamo sì diciamo quanti ne vorresti avere 10.000 sarebbe un numero giusto per poter iniziare qualcosa di serio 100 milioni è vero che sei interista sì sono interista ne vado pure molto fiero scusa non guarda che sono interista vedi si sa pure lasciare per simboli colori che credi che facci dalla juventus il dubbio mi era venuto sì però non diciamolo a nessuno è l'ho appena detto fossi juventino milanisco doveva andare in casa ma non capito se dici forza juve ricevi 10.000 iscritti in più ci stai guarda neanche se mi tagli un braccio da questa bocca non usci mai con la parola indegna sei più interessato alla fama oppure ai soldi sono più interessato alla fama sono più interessato ad avere un nuovo telecomando per lo zapping un giorno diventerai famoso chi vivrà vedrà ti riuscirò ragazzi riuscirò se lo diventassi come ti comporteresti con chi ti ha umiliato togliere dei piccoli sassolini nelle scarpe gli darei una bella 500 euro oppure una mille euro dire anche prendi questo è un quarto di quello che guadagno su youtube per me non sarebbe niente quindi e con i canali piccoli che ti chiedono collaborazioni io le farei le collaborazioni con canali più piccoli del mio senza nessun problema perché non vedo come possa nuocere al mio canale potrei fare anche lo stronzo non aiutarli chi lo sa boh con chi ti ha aiutato a crescere fatto io ho aumentato gli iscritti con le mie live ma mi ha aiutato simone topino basta così grazie e con le fan che cercano di rimorchiarti mi dispiace carissime fan ma sono impegnato quello bellissimo discorso cose che non voglio dire pubblicamente torniamo alla vita reale qual è il tuo obiettivo su questa piattaforma salire in alto in alto in alto come già detto diventare più famoso di pedepa ci riuscirò e avrò 100 milioni di iscritti per favore ditemi che siamo su scherzi a parte da 1 a 10 quanto conti di riuscirci che succederà magari 9 su 10 10 e mezzo dove trovi le idee per i tuoi video diciamo che da solo dai idee originali quindi sono cose mie quelle che faccio tutte qui a ora capisco qual è stata quella di maggior successo 8400 visualizzazioni video più visto pur poche quando la sera del 9 luglio quale insulto non tolleri dai tuoi scritti io dei miei scritti accetto qualsiasi tipo di insulto purché sia costruttivo un insulto non può essere costruttivo mi compro gli iscritti rispondi ad un hater che ti ha detto che sei scadente sinceramente non sono scadente perché non sono né roba da mangiare né roba che comunque può scadere ma il più scadente del telecomando che ho comprato ieri per lo zapping rispondi ad una bella ragazza che dopo aver visto un tuo video vorrebbe portarti a letto mi dispiace tanto ma sono fidanzato dietro ad una telecamera tutti i santi e aveva le requisite ci sono va bene è più probabile che la juve vinca una finale di champions o che tu diventi famoso io credo che sia più facile la prima probabilmente mi arrivi la barba a terra guarda sono progressi guarda hai mai lasciato un dislike ad un altro youtuber certo anche a youtubers che comunque stimo se fanno un video che non mi piace lascio tranquillamente il dislike perché è fatto apposta per lasciare o like o dislike appunto si apide poi che purtroppo più mi piace più commenti di me anche più iscritti a quale youtuber ti ispiri mi ispiro un po a quello che vedo un po qua un po la e nulla a donato inglese che sarebbe quello il competente il competente il competente di foggia è più simpatico sick wolf o donato inglese penso sia donato inglese come simpatia poi se si parla di contenuti in altro paio di mike sicchi meglio donato inglese convince i miei iscritti ad iscriversi al tuo canale cari iscritti di neschio iscrivetevi al canale di name mc allora ragazzi mi raccomando iscrivetevi al mio canale altrimenti chiamo l'indonesiano del tuo ir convincili a lasciarci un like lasciate un bel pollicione su che vi costa dai in fondo oh yeah ragazzi lasciate un like altrimenti al video altrimenti ragazzi andate in pace amen grazie neschio bella e ci vediamo alla prossima ragazzi dai se ancora non l'hai fatto lascia un like alla mia pagina facebook iscriviti al canale youtube e seguimi su instagram